Sono le dieci e mezza del mattino, siamo a Magliano nelle campagne fanesi, qui alle mie spalle come potete vedere c'è l'ordigno bellico che è stato ritrovato ieri. Sono appena arrivati i carabinieri con il sindaco Massimo Seri, polizia locale, Croce Rossa e militari dell'esercito che rimuoveranno la bomba. Una granata d'artiglieria inglese fumogena di 88 mm, a ritrovarla era stato un contadino il 22 luglio scorso, mentre stava lavorando sul campo agricolo di quella zona. Ma si trattava semplicemente di un ordigno vuoto che aveva già svolto la sua funzione nella mattinata di oggi, una volta disposta alla chiusura del traffico delle strade di località Magliano, Ferretto, Via Patuccia e San Cesareo, nonché l'evacuazione degli 11 cittadini interessati dall'area di rischio, i militari del reggimento Genio Ferrovieri dell'esercito italiano, supportati dai carabinieri della stazione di Fano, Croce Rossa e Polizia Locale, hanno provveduto al prelievo e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Sono state operazioni semplici perché effettivamente come era, nelle previsioni non era un ordigno di quelli pericolosi, ma dopo il sopralluogo degli artificieri, si è verificato che in realtà si trattava di una granata inglese che aveva già esaurito il suo compito, in quanto era fumogena e quindi l'ordigno era vuoto. Per cui è stato semplicemente prelevato e l'operazione si è conclusa così, con questa semplice operazione. Noi eravamo pronti, avevamo allertato tutte le misure di sicurezza per poter svolgere al meglio l'intervento, anche perché possiamo dire che siamo quasi abituati, nel senso che questi episodi si verificano spesso nella nostra realtà, però in questo caso veramente era una piccola cosa che si è risolta in brevissimo tempo, nel migliore dei modi. Non si sono registrati particolari disagi per la chiusura del traffico sul posto anche i volontari della protezione civile di Fano.